Sono qui per vedere il film di BoxyBoo, li vedete questi popcorn? Ce li mangiamo tutti quanti come su Minecraft oggi insieme. Rimate fino alla fine del video perché ci saranno alcune cose inedite del nuovo capitolo di Project Playtime. Andiamo! Guardate BoxyBoo! È spaventosissimo così! Guardate che siamo dentro la bocca di BoxyBoo perché lui sta andando a cercare la sua prima vittima. Chi sarà la sua vittima? Scopriamolo! Guardate, qualcuno lo sta spiando da sotto e lui è arrabbiatissimo perché non lo vede ma sente l'odore. Oh no! Mi sa che ha visto qualcuno! Lo sta andando a prendere il ragazzo è spaventosissimo BoxyBoo! Oh mio Dio! Oh! Ha fatto esplodere qualcosa BoxyBoo! Fammi sapere qua sotto i commenti qual è il tuo personaggio preferito di Poppy Playtime. Il mio è Aghiwaghi e lascia un mi piace per i prossimi video. Guardate c'è BoxyBoo che è dentro una fabbrica. C'è Aghiwaghi che non si è sentito molto bene e sembra che l'hanno usato per fare un rituale ed era lì che tremolava. Noi siamo entrati nella visuale del player. Povero Aghiwaghi guardatelo! Poverino! Ma qua avevo visto che c'era anche BoxyBoo però! No 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 dobbiamo scappare. Guardate quest'ascia! Oh mio Dio cosa avranno fatto? Guardate c'è un primo piano sull'ascia che ha il ketchup sopra quindi qualcuno deve aver rotto un panino se avete capito cosa intendo là sopra. Oh no! Porco cacco! No no no! Che è successo? Guardate sembra che qua hanno fatto dei rituali qualcosa. Si sono spente le candele. Ah! Oh mio Dio! Mio Dio guardate! Project Playtime che esce il 6 dicembre che per voi è già uscito. Se vi siete persi a live tra l'altro correte a vederla dopo il video eh. Guardate! Questa è la mappa di Project Playtime e c'è il cartonato di BoxyBoo. Questo deve essere uno dei minigame che potremmo giocare. Io questo video lo sto facendo sabato ragazzi eh. Quindi per me non è ancora uscito. Dai voglio sentire la voce di BoxyBoo siete pronti? Rimanete con me fino alla fine del video per... Oh mio Dio avete sentito? Ha detto che cosa vuoi? Non dovreste essere qui ha detto. Lo sentite? Ha una voce familiare sembra la voce di LankyBox. Se li conoscete lasciate mi piace. Avete sentito? Ha detto che vuole giocare con noi e che non dovremmo sentire questo cartonato. Perché BoxyBoo? Che cosa nascondi? Ha detto che dobbiamo aiutarlo e c'è sempre una scelta. Ha detto che urleremo e che gli stiamo dando fastidio. Perché BoxyBoo ce l'hai con noi? Ci sta aspettando. Oh sentite? Oh mio Dio che è successo? BoxyBoo? Ah! Come tu bi continuate? Non mi lasciare con questa cosa qua. Rimanete fino alla fine del video per scoprire maggiori cose su Project Playtime e la storia di BoxyBoo. Guardate! Questo è un gameplay demo di Project Playtime. C'è Isaacs che è alive e quindi è vivo. E si stanno andando a cercare niente po' di meno che BoxyBoo perché c'è la location segreta di BoxyBoo. E hanno tutti gli oggetti per costruire B-Bot verde. La scatola di Poppy Playtime. Cosa ci fa qua Poppy? Guardate quante Poppy! Oh mio Dio! Ma siamo in un magazzino ragazzi lo riconoscete? Fatemelo sapere nei commenti. Sentite il suo suono. Oh mio Dio se l'avete sentito scrivetemelo nei commenti se non tornate dietro con il video. È un suono strano. Una chiave! Oh mio Dio! Apriremo una porta, forse una porta segreta. La porta segreta di Ugi Ugi. Sto scherzando eh. Eccola! Oh mio Dio guardate quanti BoxyBoo. Fanno paurissima e c'era dentro anche Daisy se non mi sbaglio. Tornate indietro con il video per vederla. Oh mio Dio ma questo non c'era prima. È fermo vero? Ok sono tutti fermi i BoxyBoo. Posso andare? No? Sta succedendo qualcosa me lo sento. Sta per succedere qualcosa di brutto. Non ti avvicinare perché ti avvicini a BoxyBoo. Non vi dica questi denti tipo a vampiro. Guarda le mani. Oh no? Non è successo niente. Guardate! L'avete visto? In mezzo ai player ci sono delle box di BoxyBoo. Guardate! Si stanno domandando che cosa fanno queste box. Ecco vedete? Stanno facendo arrabbiare Aghiwaghi. Si arrabbia Aghiwaghi sono sicuro. Oh mio Dio. Voi non siete normali. Oh lo stanno guardando avete visto? Ecco Poppy. È molto arrabbiata. Ha detto che sa cosa stanno facendo e si dovrebbero fermare. Che stupidi player. Non dite che non vi ho avvertiti. Avete visto? Sono spariti tutti. Ecco Mommy Long Legs. Oh mio Dio. Che è successo? BoxyBoo! Questa rag... No ragazzi chi riconosce questo suono è un grande. Scrivetelo nei commenti. Sono troppo sicuro che qualcuno sa di che gioco si tratta col suono. È bellissimo. Guardate! Oh Dio! Si è aperto BoxyBoo! È spaventosissimo e realistico. No! Si è mangiato un player. Oh mio Dio. Aghiwaghi. Si è mangiato tutti. Si sono mangiati tutti i player. Guardate! Siamo su Poppy Playtime capitolo 2 ma c'è BoxyBoo. Siamo nel Playcare credo. O forse siamo alla stazione. No eccolo! È il Playcare ma di BoxyBoo. Ragazzi è spaventosissimo. Guardatelo. No è inquietante ma tanto inquietante. Se ci salta addosso urlo. È caduta una O sopra qualcuno. Vedete tutto il ketchup che è sparso? Oh mio Dio. Vediamo? Sono sicuro che comparirà BoxyBoo da qualche parte. Alza questa polo! Ciao BoxyBoo! My friend! Dammi un 5! Oh no! No ci sta inseguendo! Corri! Cosa fai? Fermo lì! Corri! Sai qual è il libro preferito di BoxyBoo? Il nuovo libro di GameTime che trovi in libreria nel link in descrizione. Ed è registrata il 10-22 del 30 marzo 1991. Oh mio Dio! È vecchissima! Guardatelo! Sembra che stia scappando da qualcosa. Qualche giorno fa lui era a casa che si riposava ed è successo qualcosa in casa sua e non ha capito che cos'è. Sono le 2 e 4 di notte. Pro One Stall. Viene dalla Massive Playtime & Co. Oh mio Dio! Sta documentando la scomparsa di BoxyBoo che è andato in casa sua. Adesso sono a mangiare. L'avete visto BoxyBoo? Io per averlo visto comparire. Guardate adesso compare un video. Eccolo! Questo è un video suo dove qualcuno lo ha ipnotizzato per andare da BoxyBoo alle 3 di notte. Ecco BoxyBoo dal vivo ragazzi. È spaventosissimo. Guardate che c'è. L'avete visto BoxyBoo lì? Raga è qualcosa di inquietantissimo. Oh oh! Cosa è successo? No ragazzi. No mi state prendendo in giro. Abbiamo assistito alla cosa più spaventosa del mondo. Guardate le mani. Le nuove mani di Project Playtime sono bellissime. BoxyBoo? BoxyBoo ce l'abbiamo dietro? Corri! Ma perché continuano a tornare qua? Guardalo quanti veloci che corri! No raga paura. Ho paurissimo. Ascritemi qua sotto i commenti se avete paura anche voi. Guardatelo. È velocissimo. Non va bene questa cosa. No BoxyBoo eh. Non ti azzardare. Attiva la corrente. Fai qualcosa magari se ne va. Non ti girare. Ce l'hai dietro. Guardalo che è dietro. No mi spaventa tantissimo ragazzi. Cioè con la bocca sbilenca ce l'abbiamo fatta? Si è chiusa la porta. Vai scavalca che forse BoxyBoo non saprà saltare così in alto. Non credo. Cos'è? Eh vabbè dai ma ho parlato ragazzi. Guarda quanto è fortissimo. Ma cos'è? È un mostro bruttissimo. E adesso? C'è dietro. Eh vabbè ma che cavolo. Mi devo sempre spaventare. Guardate c'è Bronto. Che è lì fermo immobile spaventosamente spaventoso. Qua c'è. Lui chi è? Non me lo ricordo. PJ Pagapillar. U c'è una porta. Apriamola. Fa troppo rumore. Sta per succedere qualcosa. Queste porte fanno troppo rumore. Dove andiamo? Vai di qua. Non si può? Fai vedere cosa c'è in queste porte che sono curioso. A parte i video consigliati che non me frega niente. Perché io già li ho visti. Guardate! Oh mio Dio è Boxiboo dentro il muro? Cosa state dicendo? Eh vabbè mi ha mangiato. Di che cosa so? Contro un altro Boxiboo? Sono... Ma vai a cacare! Vai! Ma cosa sono questi versi? Orribili. Mi sono preso un infarto. Prendi la chiave e levati. Sono altissimi. Mi sono preso un colpo. Era da finire. Non so neanche io dove. Dove devi andare? È Boxiboo contro Boxiboo. Ma sto video mi sembra di averlo già visto. Vediamo. Forse si scontrano. Oh ragazzi avevo letto Boxiboo contro Boxiboo. Quindi per forza si scontrano. Forse è il continuo di quello che abbiamo visto prima. Per fortuna hanno smesso di fare versi brutti. Che succede? Sentite il suono? Sta cambiando tutto. Sta per arrivare Boxiboo con la U. C'era scritto nel titolo. Quindi sono sicuro che non sarà clickbait. Secondo voi è real o fake? Scrivetelo nei commenti. Sentite. C'è qualche suono strano. Daisy non ha la testa. Povera Daisy. Cosa gli avete fatto a Daisy the flower? Ce ne sono tanti di Daisy the flower. Ciao Boxiboo. Se ti giri mi spavento. Ma c'è scritto che si dovevano scontrare due Boxiboo. Clickbaiter. Però qua c'è l'inseguimento di Boxiboo. Guardatelo. Guardate che inquietitudine Boxiboo che ci insegue. Con le sue mani enormi che si alzano. Non la voglia pubblicità. Levati. Guarda sta sfondando tutto. Sta sfondando la fabbrica della Playtime Eccore. Guardalo. Arriva pure dai tubi. No. Non ti bloccare dai che mi fa una paura matta. Vai 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 vai. Ma questi artigli dove li ha tirati fuori? Io non me li ricordo questi artigli. Tirati su. C'è dietro. Senti che versi brutti che fa. Guardalo che si tira su. Scappa scappa. Non ti curare di loro. Vai via. Corri. Vai da panino tube che ti aspetta. Vai. Bravissimo. Tira sta leva. Non sei ancora bloccato? Oh. Sembra che sia finito il chase. L'inseguimento. Vediamo. Ok apri quella porta. Dai aprila. Oh ma sei proprio falso eh. Ecco. Non ci riusciva ad aprirla. No ci vuole far fare uff. Sta arrivando. Io non farò uff. Non lo voglio fare uff. Vai via. Perché non vai indietro? Uff si è rallentato. Guardatelo. Ma che? Eh vabbè hai fatto uff. Però io non volevo fare uff. Non puoi morire dopo. Guardate. Questo è Daddy Long Legs che ha rapito. Baby Long Legs. Mommy Long Legs. È andata a rapire gli altri. Ho visto qualcuno che non ci dovrebbe essere. Ho visto Boxy Boo ragazzi. Non è rassicurante. Ce l'ha con Mommy Long Legs? Qualcuno mi è passato dietro. L'avete visto? Tornate dentro il video se non l'avete visto. Oh no. Si è aperto Boxy Boo? Mommy come fai ad essere felice? Io non sarei felice. Mommy? Oh no. Daddy Long Legs. L'ho visto. Ha rapito Mommy. L'avete visto? Dai Daddy Long Legs. No vai via però. Non fare come tua moglie. Guardalo. Eh vabbè. Se li sta mangiando tutti. È contentissimo. È diventato potentissimo. Oh mio Dio. Baby Long Legs l'ho visto. Ora ragazzi. Sto lasciando la canzone di sottofondo. Guardate. Questo è il film di Boxy Boo. Che insegue i player. Guardate che se li sta mangiando tutti. Guarda che scappano. No. Un player è caduto. Guarda Boxy Boo che lo guarda. Tipo. Sushi. Stanno tutti scappando. Ma il player ha lasciato solo i... Li ha lasciati soli. Oh mio Dio. Che cattivissimo. Guardate Boxy Boo che si sbrana tutti. Perché l'altro player li ha lasciati soli. Oh mio Dio. Ma è stato... È stato cattivissimo ragazzi. Si meriterebbe delle sberle che non finiscono più. Guardate il player blue che scappa da tutto questo. Non vuole sentirne più niente. Ma è stato mangiato pure lui. Poverino. Si però non va bene ragazzi. Tradimento. Ecco. Vai. Vai nel treno. Il treno ti ha lasciato. Tiè. Così impari a fare lo snitch. Adesso guardate che arriva Boxy Boo. Vai Boxy Boo. Mangiati anche lui. Bravo. Matti la pappa che se lo merita. Guardate Mommy. È finita dentro il treno anche lei. E c'è Boxy Boo che muove il carion. Guardate Mommy Long Greg si è contentissima. Perché lei piacciono i carion ma non sa quello che uscirà da lì dentro. Mommy non ti conviene. Mommy vai via. Mommy dai. Ma Mommy è scema. Ti prego vai via. Eccolo è arrivato. Mommy. Ah lo abbraccia. Sono diventati amici. Cosa sto vedendo? Guardatela. Mommy sta facendo vedere la sua faccia bruttissima. Ah Boxy Boo stanno facendo amicizia. L'ha fatto amicizia? No vabbè ma non si può vedere. Boxy Boo che beve il tè? Ragazzi è la cosa più inquietante del mondo. Guardate Mommy Long Greg si è impazzita vuole fare la roba del tè con tutti. Perché Mommy? Cosa ti è successo? Come Cartoon Network cosa c'entra? È impazzita Mommy Long Gregs. Ma chi è questa poi? È Grand Ma Long Gregs? Eccola che beve il tè con tutti. Super contenta. La carne giustamente è gommosa. Ma che cosa? Eh ovviamente Lady Long Greg si è contento perché Mommy la bacia. Sushi. È strano che si muova però eh. È impazzita. Eh vabbè sto bisteccone si mangia Baby Long Gregs. Guardate questo signore ha ricreato Boxy Boo nella vita reale. L'ha fatto con della plastica. Adesso ci fa vedere il video di Poppy Playtime. E poi ci fa vedere nella vita reale come funziona. È spaventosissimo anche nella vita reale. Oh mio Dio. Figata però eh. Guardate che carino. Voi non lo comprereste? Scegli uno dei video che ti sono comparsi per continuare la visione. Quindi Spano era principalmente la visione.